Il Ministero dell'Interno ha designato come esperto il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta Stefano Gesuelli. Gesuelli ha preso parte ad una quattro giorni organizzata dall'Unione Europea che si è tenuta a Lima in Peru sul progetto El Pacto. Si tratta della piattaforma con cui l'Unione Europea dà assistenza e collaborazione ai paesi dell'America Latina per migliorare le metodiche e le strategie mirate al contrasto dei traffici illeciti e al miglioramento dell'efficacia del servizio di giustizia, anche grazie alle migliori pratiche dei paesi europei. Nella quattro giorni il colonnello ha presentato l'esperienza della Guardia di Finanza sulle indagini finanziarie e l'applicazione delle misure preventive patrimoniali per combattere la criminalità organizzata di fronte a dieci rappresentanti di altrettanti paesi latinoamericani. Ha poi illustrato anche i contenuti del nuovo manuale sulle indagini finanziarie e recupero dei beni provento di reato, manuale di cui è autore. La Polizia Federale del Brasile ha inoltre dato un riconoscimento al colonnello per aver contribuito in modo determinante ad un'indagine su casi di corruzione nel paese sudamericano durante la permanenza a Panama.